Alla fine la multa è arrivata ed è anche molto salata. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Italia a pagare 25 milioni di euro subito e 30 milioni per ogni semestre di ritardo finché non saremo in regola con le norme europee sulla raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane. Una sentenza pesante che giunge però dopo quasi 18 anni di inadempienza. Il termine per adeguare gli impianti era infatti il 31 dicembre 2000 ma nel 2012 erano ancora 109 le città italiane che non avevano fogne o depuratori a norma e i giudici europei avevano concesso al nostro paese altro tempo per mettersi in regola. Inutilmente pare. Alla nuova scadenza l'11 febbraio 2016 partiva un secondo ricorso della Commissione Europea ed ora è arrivata la maximulta. Secondo la Corte infatti a tutt'oggi sono ancora 74 le aree urbane italiane che non hanno fogne e depuratori a norma sparse in 18 regioni. Solo Emilia Romagna e Molise sono in regola. In tutte le altre zone del paese dal nord al sud ci sono agglomerati urbani che ancora non rispettano pienamente quanto stabilito dall'Unione Europea sulle acque reflue con possibili e seri danni secondo i giudici all'ambiente agli stessi cittadini e al turismo. E stiamo parlando solo per fare qualche nome di Catania ma anche di Rapallo, di Ischia e di Courmayeur. Per questo la Corte ha deciso la maximulta di 25 milioni da pagare immediatamente e di non concedere altre proroghe. Ogni sei mesi di ritardo ci costeranno 30 milioni di euro.